Marco Ferri perché ha ricevuto tante nomination all'Isola dei Famosi? Ecco le risposte a Mattino 5 Marco Ferri come mai ha ricevuto numerose nomination nella prima puntata dell'Isola dei Famosi? Ecco le dichiarazioni degli opinionisti di Mattino 5 nella puntata di martedì 23 gennaio su Canale 5 Marco Ferri nominato all'Isola dei Famosi, ecco perché Valerio Palmieri di chi sottolinea, è stato nominato quasi all'unanimità nonostante facesse parte dei maschi alfa Vladimir Luxuria dichiara, il fatto che anche Franco, vincitore al televoto di Saranno Isolani, NDR, abbia nominato Marco Ladice e Lunga Si saranno tutti messi d'accordo per nominarlo perché è uno forte Non ho mai visto un gioco di strategia così forte all'inizio Per Marco Balestri il ruolo del figlio dello sportivo ha funzionato molto, al grande fratello VIP2, NDR, con Mosè Ma i figli dei calciatori sono diversi, innanzitutto perché appartengono a una squadra e poi perché le colpe dei padri, Riccardo era un calciatore dell'Inter, NDR, ricadono sui figli Palmieri aggiunge, lui è stato tradito dagli uomini Filippo Nardi e Francesco Monte, che sono forti e hanno fatto strategie al punto che Eva Enger li ha scoperti e li ha rimproverati Proprio lei è andata al televoto con Ferri e per decisione del Major Monte Turchese Barak Chiosa, Marco sopravviverà a questa nomination, l'accanimento in questo gioco diventa controproducente Marco Ferri chi è? Marco Ferri è nato in Italia il 28 aprile 1988 ed è figlio dello storico difensore dell'Inter Riccardo Ferri Nel 2008 si fa notare nel piccolo schermo per la sua partecipazione a Uomini e Donne come corteggiatore Modello e social influencer, parla fluentemente tre lingue, italiano, spagnolo, inglese e risiede attualmente tra Milano, Madrid e Santiago del Cile Proprio in America Latina si unisce al cast di Moran de Concompaya, La Divina Comida, un programma di cucina che vince, e il reality Gran Hermano VIP 5 che lo vete semifinalista Attualmente presenta in Spagna il programma pomeridiano Ferri a Ibiza e dal 2015 collabora ogni anno con più di 150 aziende e marche tra Cile, Spagna e Italia Marco ha una grande passione per lo sport, gioca a calcio, pratica arti marziali miste, MMA e sci Inoltre nel 2011 si laurea si laurea in scienze della comunicazione.Ha avuto una lunga e tempestosa relazione con Lisandra Silva, suo grande amore per cinque anni, ma oggi rivela di essere single .